Andiamo Andiamo Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Andiamo Alla rotatoria prendere la terza uscita Uscire adesso Andare qui Andare qui Tenirsi a destra E poi voltare a destra Voltare a destra Andare qui Andare qui Andare qui Andare qui Andare qui tenersi a sinistra e voltare a sinistra voltare a sinistra 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 a sinistra